E' stato presentato ieri sera al Circolo Nautico e il Corallo di Sciacca il libro Amonì Let's Go del giovane e creativo castelvetranese Giacomo Moceri. L'evento organizzato dall'Associazione All'altra Sciacca e Libreria Ubica ha registrato una notevole partecipazione di pubblico composto da tanti seguaci della pagina social Sicilian Seis che raccoglie buona parte dei contenuti presenti nel libro. Contenuti divertenti in cui Moceri ha cercato di tradurre in inglese modi di dire siciliani anche quelli ritenuti intraducibili contestualizzandoli in situazioni e scene di vita in cui ognuno di noi si può rivedere. La pagina risulta essere una delle più seguite sui social. L'evento infatti ha visto la community Igers Agrigento come media partner. Moceri durante l'incontro moderato dalla vicepresidente dell'altra sciacca Maria Grazia Catani ha avuto modo di parlare della genesi del prodotto e del legame con la sua terra. La presentazione è stata preceduta da un altro momento importante per l'altra sciacca, l'assegnazione dei premi di qualità dell'ottava edizione della caccia al tesoro fotografica Life Memorial Fabrizio Piro. Oltre alle squadre premiate lo scorso primo settembre, una giuria di qualità composta da Ambra Favetta, Francesca Mannias e Nino Sabella ha valutato l'aspetto qualitativo delle foto scattate durante la gara. La giuria ha decretato i vincitori dei premi Foto più belle e Migliore foto a tema. Ad aggiudicarsi il premio per le foto nel complesso più belle è stata la squadra a cura, composta da Mariangela Corona, Valeria Schittone, Davide Palermo e Ninni Guzzardo. Il premio per la foto a tema più belle è andato alla squadra Gli Sposini, composta da Irene Leggio e Rosario Lacca. A questi si è giunto il premio assegnato dai local manager della community Igers Agrigento per la migliore foto Instagram postata durante la caccia al tesoro. Il premio è andato alla squadra Atelier 3010 Family, composta da Daniela Napoli, Salvatore Adele e Lorenzo Chiarello. Un premio speciale è stato poi assegnato dall'associazione L'Altra Schiac, alla squadra a testa fra le nuvole, composta da Cursio Sclafani, Mohamed Eslam, Vincenzo e Giuseppe Gennaro, per avere dedicato la foto alla delicata tematica delle terme di Sciacca. Nello scatto, con una buona composizione fotografica, viene ritratta una simbolica catenomana che cerca di riaprire le terme. Uno spirito che non poteva passare inosservato e che quindi per l'altra Sciac andava premiato nella speranza che tutta la città possa tenere vivo lo spirito che l'ha contraddistinta durante la manifestazione dello scorso 6 marzo. A consegnare i premi Antonella Russo Piro e il piccolo Giovanni, il presidente dell'altra Sciacca Stefano Siracusa, il presidente onorario dell'altra Sciacca Pietro Mistrette e l'assessore alla cultura Salvatore Mannino. Contestualmente la premiazione è stato dato il via ufficialmente al challenge fotografico Instagram Life is Openness, il contest fotografico social gratuito avente il tema dell'apertura. Il regolamento del challenge è disponibile sul sito dell'altra Sciacca.